Il Paradiso delle Signore, nuove Maria smaschera Vito, Ludovica ritorna. Le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena. Che metteranno a dura prova in primis Vito la mantia. Il contabile sta facendo breccia nel cuore di Maria, ma ben presto sarà smascherato dalla Venere. Che sta studiando e lottando per affermarsi come stilista. Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Ludovica Brancia, la sua presenza non passerà inosservata agli occhi di Marcello. Le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vito porterà avanti il suo corteggiamento serrato nei confronti di Maria. Il contabile, entrato a far parte del grande magazzino milanese, ha perso la testa nei confronti della giovane Puglisi. Anche se non è stato del tutto sincero con lei. Perché Vito ha nascosto a Maria il fatto che fosse lo stesso ragazzo che in precedenza si era accordato con suo padre per organizzare un matrimonio combinato. Idea che Maria ha sempre rifiutato, al punto da decidere di scappare via dalla sua città natale e trasferirsi a Milano per iniziare una nuova vita lontana da quel matrimonio combinato che le aveva organizzato suo padre. Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore rivelano che ben presto Vito si troverà a doversi assumere le sue responsabilità. Perché la verità sull'inganno verrà a galla, Maria scoprirà che Vito è il marito che il padre aveva scelto per lei. Quale sarà a questo punto la reazione della venere del grande magazzino? Perdonerà Vito nonostante l'inganno oppure deciderà di chiudere per sempre e interrompere così ogni tipo di rapporto col contabile? Occhi puntati anche su un altro ritorno che terrà banco nel corso delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni della soap opera rivelano che il pubblico assisterà al rientro in città di Ludovica Brancia. Apparentemente felice al fianco del suo nuovo compagno Ferdinando Torrebruna. La presenza di Ludovica non passerà inosservata agli occhi di Marcello, le anticipazioni di questa settima stagione rivelano che il giovane Barbieri sarà ancora una volta disposto a tutto pur di riuscire a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.